È doveroso da parte mia ringraziare gli iscritti vecchi e nuovi a questo canale, i vecchi per la fedeltà che hanno dimostrato, i nuovi per la fiducia che stanno dimostrando. Io da parte mia cerco di fare del mio meglio per offrire sempre nuovo materiale, soprattutto a chi si interessa di letteratura ed è interessato agli audiolibri. Ho cercato di curare al meglio le playlist, al meglio di quello che mi è stato possibile ovviamente, perché il canale si è arricchito abbastanza di materiale ed è molto difficile muoversi quando il materiale diventa troppo. Allora una via più facile per orientarsi è quella di andare sulle playlist dove il materiale è organizzato spesso per autore, a volte per genere, racconti, estratti di romanzi, libri interi. Se voi avete la pazienza insomma di andare sulla home del canale e andare alla voce playlist potete trovare una certa quantità di playlist all'interno delle quali poi potrete cercare e vedere se riuscite a trovare qualcosa che può essere di vostro interesse. Usando le playlist sarete sicuramente in grado di navigare meglio nel canale e anche per seguire dall'inizio alla fine, ovviamente per chi è interessato, i romanzi lunghi che sono contenuti in questo canale. Mi riferisco soprattutto ai fratelli Caramazzo, Faberito Castigo, a Moby Dick e ai promessi sposi, che sono postati integralmente nel canale. Ci sono poi alcuni libri nel canale, alcuni audiolibri completi che sono contenuti ma non sono visibili. Io metterò a fianco di questo video nella presentazione l'elenco di questi audiolibri completi. Chi fosse interessato mi dovrà contattare e vedremo come fare per renderlo disponibile, ovviamente soltanto a chi fosse interessato. Un saluto a tutti e grazie. Arrivederci.